vediamo quindi questo è un uno standard pack che già ho aperto ieri sera quindi già lo spoilerato poi di sera però ho visto che c'era ancora la notifica praticamente questo standard pack che alla fine costa 35 matic reti da tre common e un è un raro come la dinamica una volta aperto uno standard pack che riescono varie degli sticker questo real madrid ottimo sticker ottimo si dare solo lui su lui io già ne ho due questo è il mio terzo che becco del real madrid c'è una storia dietro allo stile del madrid perché gli sti che in generale si possono ascendere tra di loro e e quindi si possono ottenere solo lui solo lui se applicato su una cookie ball ti dà dal 17 al 27 per cento in più sulla previsione del real madrid quindi praticamente che succede che tu il real madrid è una squadra più forte quindi generalmente vince sempre quindi tendenzialmente almeno la vittoria del real madrid la becchi quindi poi magari io metto sempre real madrid e over quasi sempre no se becco tutte e due prendi un bel punteggio alcune volte soltanto nel madrid con una sticker del genere potresti fare più di un risultato secco di un'altra partita più semplice e quindi il mio intento qual è le tu vuoi ascendere in tre modo in tre modi le sticker o tra due identiche al massimo livello oppure tre diverse al massimo livello oppure una al massimo livello con qualsiasi altre cinque sticker quindi un po diventa raro da common diventa raro quindi l'intento qual era perché ne avevo due già l'intento era io apro pack se mi va bene se io prendo un pack che non vale niente lo utilizzo che non vale niente il minimo minimo vale 4 matic all'utilizzo per attaccarlo al sticker del real madrid per ascenderlo per bruciarle per ascendere il real madrid quindi che faccio mi scendo una stica del real madrid da una parte e una stica della madrid dall'altra parte per ottenere due sticker rare del real madrid che da sole valgono quasi 50 matic poi queste due le porto al massimo le fondo tra di loro e ottengo una epica del real madrid ma tu devi portare al massimo la pucca quella pucca bolli no la sticker perché la stica era attaccata la pucca guadagna praticamente esperienza nel mentre utilizzi la pucca però tu vedi anche il livello dello sticker se c'è un livello che se mi vedi qua non so se si vede bene praticamente c'è scritto che va dal 17 al 27 per cento perché si intende 17 per cento a livello minimo ea livello massimo della stiga e 27 per cento quando arriva al 27 vuol dire che al massimo si poi praticamente cos'altro mi è uscito mi è uscito l'atalanta un altro e 45 matic di valore più o meno che già ne ho punti di questa già ne ho una e quindi anche qui potrei fare un discorso di portarla al massimo per ottenere una rara dell'atalanta nantes che vale il minimo 4 matic e poi la rara 4 a 4 la peggior la peggior rara che mi sia mi sia mai capitata che comunque sia comunque sia tirando le somme di questo pacchetto che è costato 35 matic tirando le somme questa al floor sta a 20 matic quindi c'è comunque in pari sono comunque minimo in pari quella del real madrid sta 10 matic e quindi siamo a 30 e dai 7 ai 10 matic comunque se ho fatto un calcolo ieri sera sto comunque sopra i 35 matic io credo che questo sia sia il pack più conveniente in assoluto in più mi stanno dando anche l'esperienza i punti esperienza quindi mi aumentano anche le energie nel frattempo tra l'altro vedo che in chat titilo dice che è pure è pure strano che non abbiano venduti tutti questi pacchi sì è strano secondo me infatti ne parlava pure ieri in chat perché il fatto che che matic sta facendo un po su e giù su e giù è un po la gente si è frenata perché settimana scorsa qualcuno ha avuto un po paura secondo me di pagare troppo e secondo me aveva ragione perché la settimana scorsa escono tutti i martedì in matic ci fu proprio il picco quindi un 35 matic non erano più 35 euro ma erano quasi 50 euro e quindi la gente è un attimo frenato però ma puki abbassato il costo a 31 matic per cercare di tamponare un po si poi come dice di tiro che ti tiro è il mio guru è il mio guru di puki ogni volta che spacchetto un pacco lui in chat privata mi insulta mi mi insulta perché mi dice che che c'ho culo quando 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 ho beccato questa quando ho beccato questa qua che è la lander questa qui è la stiger più figa più c'è penso a meno di due di differenza quello che mi dicevi due o meno di due 2 a 0 1 a 0 1 a 1 0 a 0 2 a 1 3 a 2 e 3 a 1 cioè copre una valanga di risultati ma questo per curiosità quanto lo vendono questo common 100 matic al floor no è raro è raro non c'è il vendita al momento non c'è il valore potrebbe essere vabbè se 100 è common vabbè 100 lo comprano 100 è lì 100 100 ha detto detto di tiro che se lo vuole comprare lui perché che cosa mi è balnato adesso per la testa no anche quel 4 a 4 quello che ti dicevo pure oggi in chat no il fatto che nulla nulla è sprecato no in pochi quel 4 a 4 che apparentemente dici ma non serva a niente perché quando lo metti 4 a 4 quel 4 a 4 che l'assurdo si è legato a una una puki ball io ne ho tre adesso tirare questi il 4 a 4 c'ho quella del newcastle e ciò quella questa qui due or less ma queste sono quelle che non hai ancora attaccato anno e ciò or less l'ho attaccata infatti ce l'ho a livello 36 mentre qui queste due qua no perché al momento o le attaccherò in futuro non lo so ancora perché forse si sono attaccate e no se sono attaccate non puoi venderle per questo ce l'ho se non sono sicuro di usarle le tengo staccate e comunque le metto in vendita suo pensi in modo tale se qualcuno se le compra se le tira sembra ho beccato in un pacchetto di questo ho beccato la rara dell'inter l'ho venduta a 45 matic quindi plus valenza di 10 matic si più le altre 3 4 comunque c'era sì sì e quindi praticamente l'idea è se porto tutte e tre mettiamo che questa qui non se la compra nessuno perché non se la comprerà nessuno tranne che non se la prendono a 20 matic che è veramente poco e se la comprano proprio per fare questo tipo di ragionamento qua no magari di utilizzarla per poi ascendere una più potente io potrei ottenere questa epica e non ho idea di quanto mai possa valere questa